Scusate non è che io sento l'arrivo buon cagliere attenzione che c'è via marocchietto i prezzi bravo, di là l'ingotto cto e via marocchietti, eccola la, ti faccio uno zoom porta nuova qua ecco il corso Ferrucci con la cosa dell'elicottero qua sotto qua sotto con la cosa dell'elicottero attenzione attenzione con il corso e che vuoi sasciare attenzione a attenzione 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 Siamo già a Borgano, guarda che sono giusti che mi sono stesi. Adesso, come tocca, apre le aree. Piscina. 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 Piscina.